Oggi ritorniamo nel nord-est, abbiamo parlato in questo primo ciclo di conferenze di Aquileia, poi abbiamo parlato di Ravenna e poi in ultimo abbiamo affrontato il tema di Capua. Oggi affronteremo il tema di un'altra città che è stata protagonista di una storia millenaria, poi con il tempo ha ridimensionato il suo ruolo strategico che aveva almeno fino al basso medioevo, però è stata protagonista di una storia importante dalla tardo antichità fino al basso medioevo e oltretutto è stata anche partecipe alla prima affermazione della civiltà longobarda nell'alto medioevo. Quindi Cividale del Friuli ha avuto una sua importanza dal punto di vista storico in varie fasi, poi vi segnerò anche le date che secondo me hanno avuto una loro importanza. Per cui partiamo dal contesto, tante volte interessa partire, fare un inquadramento del contesto. Quindi Cividale del Friuli per i Romani, per Roma è Forum Iuli, che poi verrà ridotto e abbreviato in Friuli. Forum Iuli, il foro di Giulio, perché Cividale viene fondata dalle truppe di Giulio Cesare, da quel periodo in cui Giulio Cesare conquistava l'Illirico e il territorio della Venezia Giulia, e che fondò poi i territori della Venezia Giulia. Quindi Aquileia viene fondata nel 181 a.C. e diventa colonia e poi municipio e i destini di Aquileia si incroceranno molto spesso, nel corso di mille anni, con i destini di Cividale. Il territorio che noi oggi andiamo a vedere è un territorio che non è solo la zona di confine dell'Italia romana, è un territorio che nei secoli sarà da sempre lo spartiacque tra l'Occidente e l'Oriente, nel senso che la Regio Venezia Istria, la Regio Venezia Istria tenete conto che è una dicitura che adotteranno gli storici dell'Ottocento, per i romani era solo un numero, cioè la Regio Decima Augustea, questa è la definizione più esatta. È un territorio che sarà strategico per il destino dell'impero d'Occidente e che poi segnerà forse il distacco stesso dall'impero d'Oriente. Teniamo conto che è in quella zona, in quel territorio, che ci saranno le invasioni più importanti che decideranno le sorti di Roma. Gli Unni scendono appunto dalla Pannonia, scendono da quella parte, dai confini della Regio Venezia Istria. Le fortificazioni che proprio in virtù delle invasioni segnavano, contraddistinguevano il territorio della Pannonia, che confina con la Regio Istria Veneta, e il territorio italiano. Sono i cosiddetti claustra alpium iuliarum. Erano un sistema di fortificazioni, vedete qui nella cartina, era un sistema di fortificazioni a difesa, che vennero instaurate da Diocleziano, proprio a difesa delle invasioni. Le più importanti erano una, appunto, a Cividale del Friuli, poi c'era la fortificazione di Emona, cioè Lumbiana, poi la fortificazione di Castrafluvio Frigido, a Idussina, che è vicino a Gorizia, nella Valle del Vipaco, poi c'era la fortificazione di Adpirum, Grusizza, la fortificazione di Neoporto, di Longatico, fino a Tarsatica, Tarsatica era l'antico nome di fiume in Croazia. Quindi il territorio non era dei più semplici, era un territorio di confine che veniva conteso dagli invasori e poi verrà anche conteso dagli stessi imperatori, perché un'altra vicenda particolare che accade proprio vicino a Cividale del Friuli e a Idussina, cioè a Fluvium Frigido, a Idussina si svolgerà nel 388 una delle battaglie più importanti e decisive dell'impero romano tra Teodosio, il Grande, e Flavio Eugenio, che era l'imperatore d'Occidente. Flavio Eugenio non era stato riconosciuto, era considerato illegittimo, di fatto ancora adesso per la storiografia è considerato un usurpatore e Teodosio sconfiggia da Idussina, quindi a Castrum Fluvium Frigidum, le truppe imperiali dell'imperatore occidente e scende a Roma e impone la sottomissione al Senato romano e di fatto con quella battaglia sancirà anche l'affermazione del cattolicesimo in tutto il territorio dell'Occidente, perché il Senato romano era l'ultimo baruardo della religione pagana. Flavio Eugenio era stato eletto dal Senato, Teodosio non l'aveva riconosciuto e quindi si erano affrontati proprio nella valle del Vipacco ad Idussina, quindi sono questi territori che magari un po' nascosti, poco conosciuti, che invece hanno avuto un ruolo importante. Cividale del Friuli ha una storia, come tutto quel territorio, ha sempre una storia abbastanza travagliata. Da Cividale del Friuli passa la via Postumia, che era l'antichissima via romana che collegava Genova con Emona, Lubiana, ma è anche il crocevia per la via Flavia che collega Trieste, difatti Cividale del Friuli è distante solo 70 km da Trieste, che collega Trieste con l'Istria e con la Dalmazia. Quindi siamo nella perfetta biforcazione dell'impero romano, della perfetta divisione. Da una parte le strade portavano a Costantinopoli tramite la via Flavia e dall'altra invece le strade portavano a Roma. Quindi siamo nella terra di mezzo, nella terra che poi sarà perennemente contesa, vedremo successivamente come. In Friuli, Venezia e Giulia, tuttora ci sono quattro città di origine romana. Appunto Cividale del Friuli, che è Forum Iuli, Aquileia, che era la capitale della decima regio, Tergeste, che era Trieste, e poi Iulium Carnicum, la città più esposta verso il Noricum, la città più all'estremo oriente del suolo italico romano, che è Iulium Carnicum, che è l'Oderna Zulio, che è una cittadina di 1500 abitanti, dove esista ancora il foro romano, i resti del foro romano, che, eccolo qua, questi sono i resti del foro romano di Iulium Carnicum. Iulium Carnicum sarà una città che poi nell'Alto Medioevo diventerà dipendente di Aquileia e poi di Cividale del Friuli. Quindi la regione della Venezia, dell'estrema parte occidentale dell'Italia romana, aveva grossi centri urbani. Cividale del Friuli bisogna essere obiettivi. Su Cividale del Friuli le attestazioni della città romana sono frammentarie, nel senso che anche le ipotesi che sono state fatte sull'insediamento sono relative e si basano soprattutto sui tracciati delle mura romane che sono stati ritrovati, ma non esiste ancora una ben definita mappatura questi sono resti che sono emersi delle mura, non esiste una definitiva mappatura della città romana, così come era. Questi sono emersi alla luce resti di fortificazioni che poi erano state restaurate e ricostruite in epoche successive, poi esistono ancora degli scavi che riguardano soprattutto degli edifici privati e quindi ci sono in alcuni punti gli interventi di scavo che stanno emergendo soprattutto in case private dove sono riemerse delle domus, ma ancora adesso è difficile avere un esatto disegno e ricostruzione di che cos'è e com'era la città romana. A differenza di Aquileia che invece si è potuto tracciare nonostante siamo in presenza ancora di scavi archeologici, si è potuto tracciare definitivamente la cinta urbana e la fisionomia della città. Sono presenti nel Museo Nazionale resti di pavimenti o di mosaici e iscrizioni epigrafiche. Sulle iscrizioni epigrafiche diciamo che c'è questa precisazione per cui ha aiutato tantissimo l'esatta collocazione anche della stessa storia della città. Cividale secondo appunto queste fonti e poi su un altro storico che vedremo in seguito diventa importante nel 452 quando appunto Aquileia che è la capitale della decima regio ed è oltretutto capitale dell'impero romano viene saccheggiata dagli unni e da Attila con l'invasione degli unni e quindi le strutture statuali che erano presenti ad Aquileia le strutture romane si trasferiscono a Cividale quindi Cividale nell'ultimo periodo dell'impero romano diventa la capitale della decima regio fino fino alla sua caduta ovviamente fino alla sua dissoluzione che avviene o nel 476 per alcuni o nel 480 con la morte dell'imperatore nepote in Dalmazia per cui a Cividale proprio per la sostituzione di Aquileia come capitale imperiale si insedia il governatore cioè il corrector e quindi l'ultimo periodo di insediamento dell'impero romano vede Cividale del Friuli come il luogo principale amministrativo e probabilmente anche di difesa del territorio perché sappiamo perfettamente che in quell'epoca saltate completamente le difese della decima regio quindi saltate le difese dell'Alpium Iulium Carnium che erano le difese dei forti che confinavano con la Pannonia il territorio veniva investito delle invasioni prima degli unni e poi degli ostrogoti sull'epoca ostrogota non si hanno tante notizie sul Cividale del Friuli ne abbiamo invece e questa forse è la cosa più importante ne abbiamo anche perché il maggiore storico dei Longobardi è Paolo Diacono che era un sacerdote di famiglia di origine germanica ma di Aquileia il maggiore storico dei Longobardi appunto Paolo Diacono che racconterà invece in maniera molto fedele e in maniera molto precisa tutti gli eventi che riguardano Cividale del Friuli e la storia dei Longobardi difatti l'istoria Longobardorum è la storia che il primo grande documento forse unico documento dell'epoca sulla storia dei Longobardi scritta da Paolo Diacono che oltretutto sarà uno dei fondatori delle scuole palatine alla corte di Carlo Magno perché poi alla fine dei Ducati del Friuli con la conquista dei Carolingi del territorio italico dei Longobardi Paolo Diacono sarà uno dei maggiori istruttori ad acquisgrana della scuola palatina quindi la chiave di volta per Cividale che era stata nell'ultimo periodo di tempo dell'impero romano d'Occidente il capoluogo della decimo rege la chiave di volta è il 569 quando Alboino conquista Cividale ai bizantini non dimentichiamoci che i Longobardi scendono in Italia perché è alleati dell'esercito bizantino nella guerra goto bizantina nella guerra greco o greco gotica i Longobardi scendono sono alleati dei bizantini scendono in Italia e poi dopo riconquistano il territorio che avevano conquistato i bizantini lo riconquistano loro e quindi nasce con questi eventi nel 569 il primo ducato italiano dei Longobardi che è il ducato del Friuli questa è una data storica perché da questo punto di vista segna il primo periodo con Alboino nomina Gilulfo primo duca dei Longobardi e quindi per due secoli il territorio di Cividale del Friuli ma non solo di Cividale del Friuli il territorio di tutta la Lombardia l'Italia del Nord sarà contraddistinto dalla presenza Longobarda parliamo della Longobardia Maior Langobardia Maior poi successivamente i Longobardi si distenderanno verso l'Italia del Meridione e verrà costituita secondo gli storici il ducato della Langobardia Minor quindi il ducato di Benevento quindi la fase che caratterizza soprattutto e forse anche il maggiore il momento di maggiore splendore per Cividale del Friuli è proprio il periodo Longobardo il periodo Longobardo che durerà circa due secoli e mezzo perché nel 774 l'ultimo duca dovrà arrendersi ai Carolingi ma costituirà l'impianto della città medievale della quale sono visibili ancora adesso alcune tracce quindi la caratteristica del territorio diventa una caratteristica fondamentalmente Longobarda che poi dal Ducato del Friuli si radierà definitivamente verso tutto il settore del nord Italia questo lo dico per esperienza diretta in un oltre al Ducato del Friuli si potrà parlare anche del Ducato Longobardo del Trentino noi avevamo lavorato in una chiesa a Trento la Badia Civica di San Lorenzo dove a fianco della chiesa di San Lorenzo che era una chiesa del 1100 avevamo trovato dei resti di una cappella votiva resti alla quota di due metri sotto la chiesa che era probabilmente di origine Longobarda teniamo conto che la presenza in Trentino ad esempio di Longobardi non è da un punto di vista architettonico testimoniata come invece è testimoniata a Cividale del Friuli che ha uno dei più belli esempi di architettura e arte Longobarda che è stata rivalutata ultimamente penso al tempietto il cosiddetto tempietto Longobardo nella chiesa di Santa Maria in valle è uno dei più importanti esempi di arte Longobarda che sono arrivati a noi da quell'epoca la possiamo associare ad altri esempi di architettura di testimonianze Longobarde che noi abbiamo in Italia pensiamo per esempio alla chiesa di San Salvatore a Spoleto oppure la chiesa di Santa Maria ad Foriportas a Castelseprio il tempietto del Clitunno in provincia di Perugia che era la chiesa poi di San Salvatore il santuario di San Michele Arcangelo a Benevento per cui è uno dei più importanti esempi di architettura di arte Longobarda che è ancora arrivata ai giorni nostri e quindi sta anche a testimoniare che i Longobardi che era una popolazione totalmente estranea alla civiltà romana a differenza ad esempio dei dei Franchi o di altre popolazioni germaniche tipo gli Alemanni i Bavari i Goti che ebbero una comunanza con la civiltà romana perché erano tutte popolazioni federate per cui in qualche modo conoscevano gli usi e i costumi dei romani e avevano anche questa sorta di ammirazione nei confronti della civiltà romana e questa sorta di scambio i Longobardi invece erano totalmente estranei arrivano appunto in Italia a seguito dei bizantini dell'esercito bizantino tra l'altro parecchie parole Longobarde sono dei traslati di terminologie di una terminologia greca proprio per capire anche il rapporto che loro stessi ebbero invece con la cultura bizantina in virtù del fatto che erano loro alleati quindi vediamo che due secoli dopo perché la chiesa di l'oratorio di Santa Maria in valle viene edificato due secoli dopo la loro conquista vediamo invece l'acquisizione di una di una certa maestria e di cultura classica che i Longobardi non erano assolutamente a conoscenza quindi notiamo anche questa evoluzione della civiltà Longobarda dopo due secoli e mezzo di insediamento nel territorio italico perché poi i Longobardi inizialmente erano una popolazione germanica votata all'arianesimo e quindi neanche al cattolicesimo sarà la regina Teodolinda che si convertirà al cattolicesimo e di conseguenza porterà tutta la popolazione Longobarda a convertirsi al cattolicesimo quindi gli esempi poi di evoluzione di una popolazione che tutto sommato poi si si mescolerà definitivamente con la popolazione indigena italica e che non dimentichiamoci che noi ancora nel Medioevo gli italiani nel Medioevo erano chiamati Longobardi in Europa quindi per dimostrare questa ramificazione della cultura Longobarda e mescolanza della cultura romanda con le tradizioni latine culturali latine quindi il tempietto che nasce il tempietto Longobardo nasce in quello che invece era il palazzo imperiale probabilmente perché era sede della Gastaldia la Gastaldia era il palazzo chiamiamolo pretorile di governo del ducato Longobardo il Gastaldo era il governatore quindi due secoli dopo invece era diventata la sede di un oratorio delle suore benedettine e quindi era diventata poi la corte si era trasformata in un luogo di culto per i fedeli molto importante vedere questa aula a croce con questa altezza molto elevata e con questo fregio che noi vediamo questo fregio che rappresenta i santi e Gesù che sovrasta diciamo le arcate del tempietto per cui è uno dei più importanti esempi che poi precorre anche se voi ci pensate la stessa architettura gotica per le stesse dimensioni delle sculture oltre a questo Cividale dopo la conquista da parte di Carolingi Cividale diventerà capitale del patriarcato di Aquileia perché Aquileia appunto come si diceva prima i destini di Aquileia si incrociano con i destini di Cividale perché fino dal 773 a causa appunto delle invasioni e delle scorrerie che in un periodo che non era assolutamente pacificato delle scorrerie anche bizantine contro i Longobardi il patriarcato di Aquileia trasferisce la propria sede a Cividale quindi Cividale praticamente per cinque secoli diventa la capitale del patriarcato di Aquileia il patriarcato di Aquileia aveva una legislazione la sua legislazione comprendeva un territorio che partiva da Como per arrivare fino all'Istria e comprendeva varie zone del Veneto del Friuli e della stessa Istria il patriarcato da un punto di vista religioso e Cividale diventa la capitale della sede del patriarcato con una importanza politica ed economica non indifferente lo sarà fino al 1210 quando nei fatti la capitale del patriarcato di Aquileia verrà trasferita a Udine ma il lungo periodo che la vede protagonista in questo lungo periodo ad Aquileia nel 1353 nasce anche per edito imperiale nasce anche l'università di Aquileia anche perché ad Aquileia era una delle proprie città dell'impero romano-germanico ad avere delle scuole delle scuole religiose e anche delle scuole dove venivano istruiti i ragazzi al trivium e al quadrivium proprio per questo diciamo che c'era stata questa attitudine a istruire una formazione diciamo di tipo umanistico ad Aquileia nascono vari monasteri e varie abazie diventa come tutte le capitali di patriarcati diventano di fatto delle città a impronta religiosa questo è una caratteristica che riguarderà moltissime città di origine romana quando l'episcopato di fatto avrà la sua importanza anche all'interno dell'impero germanico avrà un'importanza fondamentale la chiesa romana quindi come tutte le città si trasformano in città a forte insediamento religioso dove è fortemente presente l'architettura religiosa pertanto Cividale che è una dimensione sicuramente molto più piccola dell'Aquileia romana però Cividale avrà una serie di chiese e di edifici che poi rimarranno rimarranno e sono testimonianza ancora adesso di quel periodo perché c'è il Duomo il Duomo di Cividale viene edificato nel XIII secolo dopo una ricostruzione di una chiesa paleocristiana poi c'è la chiesa di San Biagio che era stata edificata anche essa nel XIII secolo sulla ricostruzione di antichi edifici tardo-medievali non possiamo non ricordare tutta una serie di dimore nobiliari che hanno fatto parte del che fanno parte tuttora del del complesso civico di Aquileia ne cito alcuni Palazzo dei Nordis che è del XVI secolo poi Palazzo Canussio Kraiger Canussio che è del XIV secolo Palazzetto dei Pupi che è del XVII poi Palazzo Pisenti Lebrini che è del XVI secolo poi una casa medievale in Borgo Brossana poi non possiamo dimenticare il Ponte del Diavolo che è stato costruito in epoca medievale lo stesso Palazzo Comunale che è un edificio gotico con il porticato salariato ricorda le tipiche costruzioni longobarde di epoca medievale noi abbiamo a Milano l'esempio del Palazzo della Ragione che è uno dei pochi edifici che sono figli dell'architettura longobarda con questa con questo enorme portico che si dove dalla quale si innanzia al primo piano tipico delle costruzioni longobarde quindi Cividale vive la sua parabola quando da patriarcato vescovile e quindi con un feudo ben preciso e ben definito all'interno del sacro romano impero germanico non dimentichiamoci che poi nell'undicesimo secolo faranno parte della cosiddetta marca del Friuli e di Verona la parabola termina nel quindicesimo secolo quando vengono conquistati dalla Repubblica di Venezia quindi il ruolo diciamo di città autonoma e comunque con un suo profilo termina con la conquista della Repubblica di Venezia su tutto il territorio del Friuli alcune particolarietà che riguardano anche il nome perché per un lunghissimo periodo Civitale si chiamerà Civitas Austrie dai Carolingi quando vengono conquistati dai Carolingi e quindi diventa la marca Forum Iuli i Carolingi la chiameranno Civitas Austrie e questo sarà un nome che rimarrà a Civitale per quasi 5 o 6 secoli e Austrie erano le terre orientali della Langobardia Major quindi era rimasta anche una sorta di riferimento al periodo Longobardo I Longobardi caratterizzeranno per lungo tempo con i Carolingi il territorio del nord-est non dimentichiamoci che Civitale del Friuli darà ai Natali anche a un imperatore germanico un imperatore germanico che prima di tutto è duca del Friuli che è Berengario Berengario era un pronipote di Carlo Magno che poi conquisterà il sogno imperiale e sarà re d'Italia e re imperatore germanico per cui il territorio del ducato del Friuli che poi diventerà nel quattordicesimo secolo patria del Friuli patria da patriarcato del Friuli non dimentichiamoci che questo nome patria del Friuli rimane rimane ancora per certi aspetti una delle caratteristiche del nome della regione del Friuli la patria del Friuli ancora adesso si parla di questo nome e diventerà quindi uno dei soggetti fondamentali dell'Italia del nord-est dell'impero germanico il patriarcato di Aquileia il cui appunto Cividale per lungo tempo era stata capitale il patriarcato di Aquileia era il secondo patriarcato nell'Italia occidentale dell'epoca con il patriarcato di Milano perché erano le uniche due autorità ecclesiastiche che godevano di diritti imperiali e anche di diritti legislativi soprattutto per quanto riguardava il feudalesimo quindi oggi ho cercato di raffigurarvi quello che è stato poi l'epoca alto medievale di una città come Cividale del Friuli che poi col tempo appunto con l'acquisizione della Repubblica di Venezia e con l'entrata nel dominio dei veneziani aveva perso quel suo ruolo che invece prima era strategico per i confini dell'impero romano poi successivamente era stata un po' una delle città principali della conquista dei Longobardi e poi comunque era rimasto uno dei Ducati delle marche centrali all'epoca dei Carolingi e poi degli stessi ottoniani tendenzialmente devo dire che ancora adesso anche se esiste di fatto insomma la cultura nazionale ha inglobato certe caratteristiche però rimane uno spirito di tradizione all'interno della regione del Friuli uno spirito di tradizione che secondo me è ancora figlio di questo principio di autonomia che esisteva appunto nelle terre della nelle terre di Aquileia e nella cosiddetta patria del Friuli esiste ancora adesso questa forma di cultura della tradizione e di attaccamento alle proprie origini se voi ci pensate la stessa caratteristica della lingua friulana che è considerata una lingua a tutti gli effetti e che viene insegnata in regione in regione Friuli è figlia di questa impostazione perché le stesse lingue che si parlano in quel territorio che sono delle lingue ladine perché esiste il ladino friulano il ladino carnico il ladino veneto il ladino bellunese ed è una forma di idioma che si che poi si confonde anche con una specie di dialetto sloveno della quale con la quale quel territorio convive quindi queste particolarità queste caratteristiche pensiamo anche all'adino del Trentino Alto Adige del Sud Tirolo questa forma di linguaggio di idioma che poi accomuna diciamo queste tradizioni posso anche dire che se il Veneto veniva parlato sulla costa perché ad esempio la lingua la lingua venetica era parlata soprattutto sulla costa dell'Istria e anche a Trieste il in Dalmazia ad esempio veniva parlato un altro tipo di lingua di lingua romanza che poi era stato completamente dimenticato che era il Dalmatico il Dalmatico è una è una lingua romanza che si è andata completamente estinta è una lingua che hanno parlato sia i popoli croati che hanno vissuto che vivono in Dalmazia dal settimo secolo dopo Cristo che i Veneti e quindi una mescolanza di lingua veneta lingua groata una sorta di sermo che poi è andata estinta questo per dire che esistono delle particolarità delle peculiarità delle caratteristiche che sono ancora molto forti in una regione che ha sempre tenuto alla propria storia a una storia fatta di confine perché sin dai tempi dell'impero romano questa è stata la linea di confine di demarcazione dal suolo italico con l'illirico quindi era ed è rimasta è rimase poi per lungo tempo questa linea di demarcazione dall'illirico all'Italia e molto spesso anche una differenza di culture che poi si è un po' tramandata perché queste differenze per lo meno tra il suolo italico e il suolo illirico sono rimaste ma non solo certe differenze tra occidente e oriente nascono proprio in quella in quella linea di demarcazione che è appunto questo confine che non è solo immaginario ma che invece molto spesso è stata la demarcazione delle due civiltà l'oriente e l'occidente che col tempo si sono ancora più contraddistinte si sono ancora più caratterizzate quindi se vi capiterà di andare in queste terre di confine del Friuli voi vedrete che la popolazione parlerà sia il friulano che l'italiano che lo sloveno proprio perché oramai fa parte di un tipo di cultura storicamente radicato nella quale non ci sono neanche grandi differenze perché nelle terre di confine queste differenze non si fedono mai non si fedono mai Grazie a tutti